Esattamente 5 mesi fa decisi di entrare su questo server Minecraft straniero con l'intenzione di dominarlo Questo praticamente è il video in questione Grazie al potere di quel video siamo riusciti a far aggiornare e rimodernizzare l'intero Skype PvP Cioè adesso fatemi capire Con il vostro like, con il vostro supporto, i vostri consigli e le vostre dritte L'owner ha deciso di aggiornare il tutto Cioè, damn! Questi sono i privilegi dell'essere un nuovo youtuber Allora, innanzitutto l'admin di questo server ha deciso di regalarmi dei token Io ancora devo capire quanti token ho Allora, a momento abbiamo 11.329 tokens E sinceramente non so se siano tanti o pochi Siamo in compagnia di altri iscritti che ho invitato attraverso i miei server Discord Entrateci ragazzi, dovete entrare, dovete Allora, Superior Set Un kit veramente OP con più di 18 item Questo kit costa 1825 tokens Quindi lo posso prendere Oh mio... Oh mio Dio! Oh! Colcate! Mamma... Compra fra, compra! Shit! We did it! Oh mio Dio! Oggi si fa fuori a flexare Cioè ragazzi, rendetevi conto che ho 61 crates Cioè non so se siano tante Ai miei occhi si Cioè sono tante Non so voi ma non do molto valore a queste crates E non ho voglia di stare qui a aprirle Perché non è un video dove spacchettiamo le cose Però vorrei aprire queste Perché danno robe abbastanza croccanti Damn! Ok! Allora, vediamo un po' cosa troviamo 3 smeraldi Sky PvP crate Vai! E nulla Donation key Cosa mi ha dato? Roulette item Cosa mi dai? Uh! Jackpot Vai 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 Ora doppiatemi i soldi Ah ma ho 0 soldi in banca Ragazzi, il doppio di... Il doppio di 0 non è c'è... Senti, non facciamo domande Prendi i suoi soldi e stai zitto, Garby Ma posso volare? Ok, qui non posso volare Oh mio Dio, posso volare? L'ho scoperto adesso È tempo di dominare? Eeeh, dove andate? Ora, dobbiamo scegliere un lato Da quale usci... Ok, siamo qua Vai vai via 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 Ok Ora, block trap Uh, ok Preso uno Vai Si torna a dominare, boys We did it Oh no Oh mio Dio Ok, preso Preso anche lui Ok Oh Ok, bene Preso 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 Perfetto Vai 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 Forza L'obiettivo sarà fare 100 uccisioni Senza mai morire L'aiuto Sarà difficile Perché prima o poi Qualcuno D.O.P. comparirà Questa me la sento Però sapete una roba? Mai arrendersi Questa è morto È morto Allora, praticamente Bisogna fare molta attenzione Perché qua Oh mio Dio Ok, siamo a 22 uccisioni di fila Oh mio Dio Stanno arrivando tutti Stanno arrivando tutti Stanno arrivando tutti Ho rischiato di morire Per ben due volte Non so come Miracolosamente Mi sono salvato Ok Preso Devo fare attenzione Perché qua mi buttano giù Mi tendono delle trappole Ok Preso Oddio Stanno arrivando tutti Stanno arrivando tutti Stanno arrivando tutti Oddio Ok, penso di mettermi in quest'area Perché l'area è più sicura E devo fare molta attenzione Ripeto Perché qualcuno potrebbe venire Da un momento all'altro E buttarmi giù Ok Preso anche lui Oh mio Dio Quanto loot Dato che l'oro qui Si usa per comprare cose Allo shop Mi organizzo un po' l'inventario In modo che possa raccoglierlo Ok, 45 uccisioni ragazzi Chi ci fermerà? Admin Vi prego di fermarmi Perché qua abita un ragazzo OP Letteramente OP Ok, siamo già a metà strada Uh Preso anche lui Ok Preso Uh No, non l'ho mancato Com'è che è caduto da solo Ok, sto facendo il giro Preso Fare attenzione Che nessuno mi attacchi da dietro Ok, perfetto Anche lui l'ho preso È andato anche lui Bene Avete visto? Cercano di Mettermi tipo in un angolo Oppure di buttarmi giù Così almeno O mi chiudono Oppure mi fanno perdere tutto In una volta sola Uh Ok No, niente team Non si team ragazzi Forza Ok Oh mio Dio Ok Preso anche lui Preso anche lui Terp Oh mio Dio Oh oh Stavo per cadere Aiuto Oh no No Bene voi Siamo pronti per il secondo round Cerchiamo di fare le nostre 100 uccisioni di fila E vediamo un po' se riusciamo a farcela Giustamente Se avete la porta più difficile di questo server È uscire Esatto Guardate quanti players mi stanno dietro Faccio così Faccio la finta mossa Tutti si gettano Ok Esatto No No Perfetto Ora vediamo un po' cosa troviamo nelle crates qua Attorno Iron chestplate Oh Gente che mi vuole uccidere Do male giornata per carpi Uh Preso Forza 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 Roll 200 Ok Uh Ok preso Preso L'ho colpito in teoria Quindi lit Nooo Uh Oh mio Dio Ok preso Preso anche lui Perfetto Tu non sei ancora morto? No Devi scendere Ok Oh Oddio è volato Quello Nell'iperspazio Non è finito Ok siamo a 13 uccisioni Forza Uh Oh mio Dio Mi stanno sbattendo un po' ovunque Ok Presi entrambi Che lo farò attenzione Che nessuno mi compaia Con una pozzina di forza Perché qua mi calano instant E dato che abbiamo un sacco di 1000 OP Direi di utilizzarle Facciamo così Perfetto Vieni anche tu Oh mio Dio No 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 Mi sa che qualcuno ha tipo Una spara con knockback E questo è un problema Perché se dovessi spostarmi O mi salvo con la perla Oppure è finita E anche tu vai Ok Siamo già alle nostre 31 uccisioni Dai Oh mio Dio vai vai Presa Non so al momento quanti player si scelta Ah no 70 player Ok Vorrei salire un attimo qua sopra Mi sta sparando Uh Qualcuno Eccolo qua Via Anche tu Presi We did it Ok Dove invece vieni qui Oh no Oh mio Dio Ecco Io ve l'ho detto Nonostante io sia OP Posso morire da un momento all'altro Se qualcuno è abbastanza furbo Mi può buttare giù Nel modo più semplice E stupido possibile Ecco esatto Tipo questo Si va al mito degli estremi Ok Ok It's time to farm baby Let's go Ok Shish Ok Ok Tu dove scappi Dove pensi di scappare Che fai Ti chiedi dentro Riprendiamo la stick di prima Battiamo il nostro record Uh Presa anche te Forza vieni anche tu Forza ragazzi Roll 200 Roll 200 Roll 200 Ok preso preso E tu dove stai andando Penso riesco a prenderlo Oddio l'ho preso Come È andata di fortuna Che è caduta proprio Nel stesso secondo In cui ho sparato la freccia Ok Ora Vorrei andare un attimo Dell'isola del nether Tanto per cambiare un po' il bioma Infatti c'è qualcuno qui Oh mio dio Preso Preso anche lui Oh mio dio Qua rischio di morirci Qua è rischiosa la zona Che lo farei attenzione Non Ecco esatto Oh mio dio Ok ci sta un po' di movimento qua Andiamo un po' a visitare Sta zona Ciao Ciao Ryan Oh mio dio Ok Ok Forza 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 Perfetto Oh si è rotta l'elmo Forza L'ho preso L'ho preso L'ho preso Entro ed esco Forza ragazzi Rotto i cento Siamo vicinissimi Non possiamo perdere adesso Oddio Quante uccisioni stiamo facendo Ok Una dopo l'altra Let's go Meno 15 Ragazzi Le ultime 15 uccisioni Le abbiamo dominato Ufficialmente il server Un'altra volta Ok Forza Dai 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 Ok ragazzi In te ne mancano 10 Ok 8 8 8 kills La scorpion Non si è ancora aggiornata Non posso mangiare la mela Perfetto Ok Preso anche lui Preso Ok questo mi sa che muore Da danno da fuoco Già fai la spec 2 Preso anche lui Forza Forza Oddio 5 kills Oh no 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 Oddio Ok Oddio Mancano due uccisioni Let's go No Oddio We did it We did it 100 uccisioni Oh mio dio Un altro clutch Ok Li ho presi tutti Oddio Sono senza elmo No Sono senza elmo Sono senza elmo Sono senza elmo Oddio Sono senza elmo Sono senza elmo Sono subito di morire Non ho pozioni di forza Qualcosa altra che mi può Aiutare No niente Aiuto E ora Il problema è tornare allo spawn E mantenere sta windstreet Il problema principale sarà tornare allo spawn Perché qua Un hit E l'hai finito il tutto Oddio che c'è Che fa Mancia uova Preso Datemi un kit E diventerò infermabile Uh Guardate Stanno pianificando qualcosa Me la sento Ok Capito una cosa Combatterò finché la mia armola Non si distrugge Non mi interessa Battaglia fino all'ultimo sangue Oh Oh mamma Mela 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 Oddio Ok Oh mamma Ragazzi Non ci sono ancora fermati Siamo senza elmo I piedini Al vero modo Un punto in cui saremo nudi Veramente Oh no 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 Mi sono gricciato Ok No E lo so Nella Dopo 121 di killstreak Siamo morti E nulla ragazzi Dopo aver dominato questo server Alla perfezione Direi di concludere qui E noi ci vediamo In un prossimo bellissimo video Bella Ciao 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 Grazie a tutti.